ciao a tutti gli amici dell'orto dio da stefano maggi a tutti quelli che seguono il canale a tutti quelli che seguono la pagina e volevo darvi delle buone notizie ho deciso di provare a fare questo lavoro in maniera seria cioè dare i stessi cibi che cerco per me che coltivo per me cibi vegani sani etici biologici eccetera eccetera poterli vendere anche alle altre persone e a una piccola cerchia le persone ovviamente perché non è che insomma sono ancora da solo tra l'altro ricordo anche che cerco sempre aiutanti che in campagna se si lavora bene si può anche guadagnare però bisogna averci la voglia di fare ma a parte questa piccola parentesi dicevo che ecco vorrei vendere l'olio d'oliva con l'etichetta bisognerà fare tutta una serie di pratiche voglio vendere i funghi con la certificazione pure quello ci sono altri impicci la frutta e la verdura che produco quando la produco le erbe spontanee la frutta secca che posso andare a raccogliere quella è magari adesso ecco nel periodo invernale più che l'orto si si fa di raccolta comunque più o meno tutto l'anno riesca averci vari tipi di cibi buoni che uso io e ecco potrei cominciare a venderli e già stavo provando a farlo però vorrei fare le cose in maniera seria in maniera regolare mi sono informato insomma dovrò aprire una partita iva e fa tutta una serie di cose quindi niente prima di fare un salto nel buio però in un lavoro comunque mi piace mi appassiona vorrei sapere anche che ne pensate voi quindi se ci sono persone ad esempio interessate a diventare clienti della situazione del genere possibilmente persone che abitano a roma dove potrei arrivare anche quella mia macchina elettrica che non inquina ma pure per far quello ci vorranno altri permessi se no venivoli a prendere direttamente qua e quindi niente se voi già mi fate sapere chi è interessato io già mi posso regolare meglio su su come mi posso muovere che cerco sempre aiutanti anche questo l'ho detto niente ho detto quello che dovevo dire vi saluto buon buon proseguimento di giornata a tutti ciao